un piccolo gioiellino sto volumetto anche se se dobbiamo dirla tutta qui del ferrari uomo c'è poco sono più che altro dei risacconti sulla sul team ferrari sulla corsa automobilistica ma di ferrari come uomo c'è poco come ingegnere che ha fatto la storia della ferrari c'è poco un po' 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 l'un po' un po' un po' un po' un po' un po' che aveva fra tante disgrazie anche perso un occhio perché c'è sempre un prediletto fuori delle automobili ha anche altri interessi psicoanalisi e antropologia gli animali sono un amore, mangia e bebe senza inibizione all'egramente di chi Tienza Ferrari fa un ritrattino che tiene conto dei meriti ma che non ha accenti molto cordiali uomo di vasta cultura teorica, pari alla sua ansia di immagino loro mi sono separato non per contrasti di natura tecnica, sindacale o finanziaria ben si parla al giorno per pretesti, sorti, per fattori strani che distorsero la visualizzata e le giuste proporzioni delle singole posizioni questo divorzio suggerì ad altri collaboratori una curiosa solidarietà che in seguito mi apparve fin tra poco chiara il tempo si è poi incaricato di definire le individuali capacità di tutti i costori Ferrari è leale, riconosce che ogni collaboratore ha portato il suo contributo dice che si debbano ricordare solo le pagine liete ma che chi se n'è andato si è portato dietro un insegnamento e una somma di conoscenze possibili solo in un ambiente come si sa, aperto ad ogni proposta ad ogni suggerimento nel 75 c'è stata la ria-pacificazione con un tanto di abbraccio e qualche flash dei fotografi non siamo andati d'accordo, mi racconta l'ingegnere Chidi ma non c'erano motivi personali, ho passato sei anni con lui ma non sono stato solo a venire via eravamo un gruppo di dirigenti tutti abbastanza giovani e Ferrari era abbastanza duro mi chiamò dopo la morte di Fiaschetti che era capo dell'ufficio tecnico e si ammazzò provando una vettura guardi, Ferrari è un grand'uomo con grandi difetti e grandi pregi molte delle sue pecche ora che ho un posto simile al suo mi accorgo che sono proprio del mestiere è estremamente intelligente ha una preveggenza al denne di una chiromante capisce le cose 5 giorni prima conosce bene gli uomini e il suo compito diffonde simpatia la più affascinata era mia moglie che si interessa di Freud un soggetto straordinario fuori dai rapporti di lavoro e di un fascino incredibile l'ho visto a discutere con un gesuita e lo incastrava se avesse fatto il politico sono certo che avrebbe ottenuto un successo immesso i lati negativi imbursività e diffidenza spesso affermava pensate male e siete alla metà della realtà per me non è sempre così una volta lo consideravo anche prepotente ma adesso ho capito che certe decisioni certi atteggiamenti non sono sopprose siamo a pagina 38 non sono non sono non sono ma non sono non sono